Musica Addio lo storico orafo di Fano Gabriele Ciccolini Deceduto a 66 anni giovedì l'ultimo saluto nella Basilica di San Paterniano Un giovane mostra le parti intime a bambini e ragazzi L'allarme lanciato da alcuni genitori a Fossombrone e Sant'Ippolito Indagano i carabinieri per identificare l'autore Dal casello di Fenile alla ciclovia del Metauro Dall'ospice pediatrico alla palazzina dell'emergenza urgenza La regione Marche investe 65 milioni di euro nella città di Fano Il punto con l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli Musica Ecco come diventerà l'area dell'ex Agipa Fano A settembre partirà il primo stralcio di lavori che prevede una piazza con sedute Alberature e aree verdi previsti in futuro Nuovi parcheggi in via Malagodi e una pista ciclopedonale in via Montegrano Iniziative solenne in occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa Del Marò Filippo Montesi domani Fano TV trasmetterà in diretta la cerimonia prevista in teatro Con il concerto della banda della Marina Militare Musica Al Politeama torna la commedia indianetto fanese della compagnia Gaff dal 27 al 29 marzo Ma in scena come la giri la giri manda sempre le donne Musica Dal calzo alla palavolo fino alle attività del Panathon Club e dell'Avis Fano Che promuove il lato sano dello sport dopo il TG torna sportissimo con il giornalista Andrea Maduro Musica Musica Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Si è spento all'età di 66 anni Gabriele Ciccolini Orafo storico di Fano che purtroppo questa mattina è deceduto dopo aver combattuto per circa un anno contro un brutto male Volto noto a Fano Gabriele ha prima lavorato per 30 anni allo studio a tre in società con Daniele Gaudenzi e Mauro Longhini E da 21 anni aveva aperto un negozio insieme al figlio Andrea in via Garibaldi nel centro storico Era a mio braccio destro ci ha raccontato il figlio Era una persona buona, gentile, disponibile e dal cuore enorme Ha sempre aiutato tutti quelli che avevano bisogno I funerali si svolgeranno giovedì alle ore 15 nella Basilica di San Paterniano Mostra le parti intime a bambini e ragazzi E' successo nel fine settimana nel borgo di Sant'Antonio a Fossombrone Dove un ragazzo sui 25-30 anni con capelli e occhi scuri Si è avvicinato ad un gruppo di bambini con i pantaloni slacciati tirando fuori le parti intime Una mamma ha subito sporto denuncia alla compagnia Carabinieri di Fano Non si tratterebbe però di un episodio singolo Infatti un'altra mamma ci ha raccontato che la stessa scena si è ripetuta sia a Ponte degli Alberi Sia in via Rossini a Pian di Rose nel comune di Sant'Ippolito In quest'ultimo caso di fronte a sua figlia di 11 anni Cresce dunque la preoccupazione dei genitori ma il comandante della compagnia Carabinieri di Fano Maximiliano Papale ci ha confermato che le indagini stanno proseguendo per identificare l'autore Passiamo all'edilizia ospedaliera e alle infrastrutture che verranno realizzate a Fano Grazie a un investimento della regione di circa 65 milioni di euro Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Francesco Baldelli Le infrastrutture per condizione di sviluppo è stato questo il titolo dell'incontro Organizzato da fratelli d'Italia Fano a Palazzo Martinozzi Che ha visto protagonista l'assessore regionale Francesco Baldelli Che ha illustrato gli interventi previsti per il Fanese per oltre 65 milioni di euro Recuperiamo, ha commentato l'assessore, quello che non era stato fatto in passato Ci deve essere un equilibrio tra nord e sud delle regioni Tra grandi e piccoli centri, tra costa e dentro terra Nella costa noi abbiamo la terza città delle Marche, non ce la possiamo dimenticare Partiamo dalla sanità, dall'edilizia ospedaliera, che cosa è previsto? Sono arrivati già i primi studi, i primi bozzetti della nuova struttura ospedaliera Che va ad integrare il Santa Croce, che è una palazzina delle emergenze e urgenze Prevediamo in proiezione un investimento di 25 milioni di euro Affinché effettivamente, anche durante le emergenze, Fano possa rispondere adeguando i propri servizi Adeguandoli strutturalmente e lo vedremo anche nel prossimo piano socio-sanitario Ridando un ruolo importante a questo ospedale Per il Santa Croce abbiamo anche circa 10 milioni di euro da investire Nel hospice pediatrico e tutti quei servizi che vorremmo costruire attorno Anche qui attendiamo il piano sanitario per partire poi con la progettazione dell'hospice Che ormai è negli atti della regione Marche per la città di Fano Nella palazzina sono previsti il pronto soccorso, quattro sale operatorie La terapia intensiva e quella semi-intensiva E la diagnostica dedicata al pronto soccorso che andrà a facilitare anche il lavoro degli operatori Le tempistiche per la sua realizzazione sono quelle dettate dal PNRR Quindi nel 2026 la regione dovrà rendicontare allo Stato italiano e all'Unione Europea Come sono state investite queste risorse Passiamo alla viabilità con il casellino di Fenile La strada delle barche e la ciclovie del Metauro Altri investimenti importanti abbiamo recuperato questo casello Che è soltanto il punto di partenza di una nuova viabilità fanese Della quale ci si era dimenticati O meglio, le amministrazioni comunali sicuramente fanesi Ritenevano importante questa infrastruttura viaria Purtroppo con l'autostrada si erano interrotte le comunicazioni necessarie Per poi poter realizzare l'opera Dopo che nel 2012 i ministeri competenti avevano bocciato il progetto di allora Lo abbiamo recuperato O meglio, autostrade ha presentato alla regione Marche Un'idea di casello che risponde anche alle indicazioni della soprintendenza L'impatto sarà minimo sul territorio Ha rassicurato Baldelli Dobbiamo risolvere, ha detto, il problema della strada statale 16 E del collegamento tra Marotta, Fano e Pesaro Investimenti previsti anche per il Codma di Rosciano L'ex Foro Boario e per le Aule del Nolfi In quest'ultimo caso la provincia ha presentato un progetto alla regione Che è stato finanziato con 6,2 milioni di euro A questi vanno aggiunti finanziamenti per la ventilazione meccanica controllata Uno studio del professor Ricolfi e della fondazione IUM Ha dimostrato che con la ventilazione meccanica controllata E con almeno 5,6 ricambi d'aria all'ora La probabilità di essere contagiati dal Covid Ma anche di abbattere le altre patologie Pensiamo alla semplice influenza Si riduce dell'82,5% Poi l'investimento sul Codma, 1.350.000 euro Alcuni lavori sono ancora in corso Sulla palazzina direzionale Diciamo abbiamo riqualificato uno spazio di proprietà regionale Molto importante e strategico per la città di Fano Ma per tutta la provincia di Pesaro e Urbino E quindi una grande ricchezza che può diventare un moltiplicatore Delle iniziative fanesi della Valle del Metauro Della provincia di Pesaro e Urbino Per portare ricchezza in questi territori E come avete sentito nel corso del servizio Questi progetti sono stati presentati dall'assessore Durante un incontro organizzato da Fratelli d'Italia Fano Allora sentiamo i commenti della coordinatrice locale del partito Loretta Manocchi e del dirigente Andrea Montalbini Questa sera un importantissimo incontro sulle infrastrutture Ringraziamo il circolo di Fratelli d'Italia di Fano Che ha invitato l'assessore all'infrastruttura Francesco Bardelli L'aria nelle Marche è cambiata, è cambiata in tutta la regione Ci sono grandi investimenti che la regione guidata dal presidente Acquaroli Sta facendo nei nostri territori Edilizia scolastica, edilizia sanitaria, il nuovo casello Ricordiamo che nuove infrastrutture significa sviluppo economico E prosperità per il nostro territorio Finalmente la regione Marche pensa alla terza città delle Marche che è Fano Quindi non possiamo che essere grati alla giunta Acquaroli e all'assessore Francesco Baldelli Temi importantissimi soprattutto per la città di Fano Che la vede coinvolta in importanti investimenti da un punto di vista economico E che chiaramente determineranno una qualità sicuramente migliore della vita di tutti i cittadini Questi incontri sono assolutamente fondamentali e propedeutici Proprio per, al fine di far conoscere alla cittadinanza tutta Quello che appunto è l'operatività insieme al Consiglio regionale Che molto spesso si apprende così sommariamente dalla stampa Ma non si ha la concezione concreta di quello che in realtà si sta facendo Rimaniamo a Fano perché questa mattina è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica Dell'area dell'ex Agip La riqualificazione prende in considerazione l'intero isolato E i lavori partiranno a settembre Vediamo come diventerà quest'area nel servizio che è stato preparato da Filippo Pucci Area ex Agip è la volta buona? Sembrerebbe di sì Finalmente c'è il progetto definitivo presentato ufficialmente questa mattina Dal sindaco di Fano Massimo Seri Dall'assessore lavori pubblici Barbara Brunori Insieme ai progettisti Gli architetti Leonardo e Riccardo Bacchi Della ditta Architetti Associati di Forlì Dopo i lunghi interventi di bonifica del sito Ad oggi senza alcuna traccia di contaminazione Finalmente si andrà ad intervenire già da quest'anno Per realizzare un'area vivibile all'ingresso della città Uno spazio che veramente mette al centro quello che è la sostenibilità La sicurezza delle persone Visto che ci troviamo anche in prossimità della scuola Con un richiamo fedele a quello che era il disegno derenziano Naturalmente avranno una visione contemporanea Rispetto a bisogni che oggi sono subentrati nella città Di fatto vogliamo restituire un luogo al meglio Che non è un parcheggio ma è un'area in più Dove la città davvero potrà riconoscersi Un investimento di 441 mila euro Di cui 380 mila arrivano dai fondi ministeriali Quindi ci siamo aggiudicati grazie ad un bando Sulla rigenerazione urbana E 61 mila euro sono state invece destinate Grazie a risorse comunali proprio per la progettazione Insomma uno spazio rigenerato come lo era un tempo L'intervento vedrà una piccola piazza con sedute Nuove alberature, aiuole e aree verdi che circondano tutto il perimetro E una pavimentazione in cemento architettonico Con inerti locali di colore rosa I lavori partiranno a settembre Proprio perché adesso a brevissimo manderemo a gara il progetto Aggiudicheremo i lavori Per far sì che a settembre iniziano e terminano per la prossima primavera Il progetto è diviso su più stralci Infatti l'intervento non comprende solo l'area dove sorgeva il distributore Ma anche tutto il contorno dell'istituto Corridoni In via Montegrappa spariranno i parcheggi davanti alla scuola Per consentire la piantumazione di nuove alberature E la realizzazione di una pista ciclopedonale La parte verde retrostante invece verrà arricchita da nuovi spazi aperti E da giochi Mentre nuovi parcheggi verranno realizzati in via Malagodi Ma questo comprende il secondo e terzo stralcio Quindi lavori che verranno eseguiti in un secondo momento I parcheggi con questa nuova progettualità Dove adesso naturalmente andremo a realizzare la prima parte Migliorerà anche quella che è l'area della sosta In termini di ordine e anche di numero di parcheggi Perché passeremo da 72 parcheggi a 99 Soddisfatto il sindaco Seri per questa nuova visione d'insieme della città Che andrà a valorizzare anche gli eventi in quella zona Il carnevale e la città dei bambini L'obiettivo che ci siamo dati è quello di rendere Fano La città più bella e interessante della nostra regione Questa è la strada giusta Si unisce a tante altre riqualificazioni Ma questo è un progetto contemporaneo Che dialoga col suo passato Che tiene conto della persona Che tiene conto della bellezza E tiene conto soprattutto anche di quelle che sono le esigenze del domani Ma quello che voglio sottolineare Che il ragionamento che abbiamo fatto non riguarda solo quell'area Abbiamo ragionato su tutto l'isolato E l'isolato nell'intero centro storico della città Perché il progetto è un unico E' chiaro che poi si interviene per stralci Ci spostiamo a Gabice Mare Dove Confesercenti ha presentato Assotel Una nuova associazione del turismo Aderente al sindacato di categoria Il turismo di Gabice Mare ha una nuova realtà Che conta 35 hotel della zona Pari ad oltre 60% della ricettività di quel territorio E' stata presentata nei giorni scorsi La neonata Assotel Confesercenti La nuova associazione del turismo Aderente al sindacato di categoria Il gruppo di lavoro si è costituito formalmente Lo scorso 16 marzo Durante un'assemblea che ne ha deliberato gli organismi direttivi L'obiettivo è quello di mettere a terra idee, progetti Anche di avere una forte rappresentanza sindacale Proprio per poter mettere a frutto E mettere a terra tutti i progetti Di cui ci faremo portatori E che sono già in parte in cantiere Diversi infatti i progetti che hanno cominciato a prendere forma Legate alla promozione del territorio E all'ottimizzazione dei periodi turistici più deboli Con l'obiettivo di destagionalizzare l'offerta Riguarda non solo la città di Cabice Ma anche tutta l'area del San Bartolo È un bellissimo progetto Che non si risolverà tutto nell'arco di una estate Quindi però prenderà forma quest'anno Ma poi avrà dei risvolti E poi sempre dei piccoli step Di ampliamento nei prossimi anni A partire poi dal prossimo Che è la capitale della cultura Presidente di Assotelle è stato nominato Francesco Ceccarelli Vicepresidenti Elisa Scola E Federica Vannoni Michelacci I componenti della giunta invece sono Andrea Cagnoli, Davide Bartolucci Francesco Schiavi e Roberto Annibalini Intraprenderemo insieme un nuovo percorso Ha dichiarato il neopresidente Per rendere la nostra città e il territorio Sempre più accoglienti e competitivi Nel settore del turismo Questo è un gruppo È un bellissimo gruppo che si è formato Che insieme a Confesercenti Ha voglia di lavorare Di mettere in piedi idee Di essere propositivo in tutto e per tutto E siamo sicuri che con questo nuovo modo di lavorare Che ha Confesercenti e Assotelle Con questo nuovo gruppo di imprenditori importanti Che è arrivato con noi Saremo veramente in grado di un po' rivoluzionare Anche l'ambito del turismo Sia a Gabice che un po' in tutta la nostra zona È un impegno che ci siamo presi È un impegno che vogliamo portare avanti Ce la metteremo tutta E siamo sicuri che in poco tempo Riusciremo a fare grandi cose Invece il Teatro delle Muse di Ancona Ha ospitato il convegno intitolato Realizzare la sostenibilità Le nostre imprese si raccontano Il secondo dei quattro appuntamenti Evoluti da Confartigianato Imprese Ancona Ancona, Pesero e Urbino è stato dedicato alle imprese Che hanno fatto della sostenibilità il loro punto di forza Ospite d'eccezione il cantante, attore e conduttore Neri Marco Re Cristiana Guerra Una parola chiave è quella della sostenibilità In un contesto economico In continua evoluzione È sempre più competitivo Domenica scorsa Nel Teatro delle Muse di Ancona Il secondo incontro denominato Realizzare la sostenibilità Le nostre imprese si raccontano Nell'ambito di un progetto organizzato da Confartigianato In collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche E la Camera di Commercio Sul palco il presidente della regione Acquaroli Le autorità locali I vertici di Confartigianato Della Camera di Commercio E gli imprenditori Per dialogare su un tema caldo Che influenza le scelte delle aziende Cuore pulsante dell'economia Che attraverseranno anni di grande trasformazione E innovazione tecnologica Con i bandi messi a disposizione dal PNRR Come ha ricordato il governatore I artigiani sia per numero che per qualità Sono il cuore pulsante della nostra economia Dell'occupazione E poi quanti artigiani si sono trasformati in industrie E oggi hanno scoperto e scoprono mercati internazionali Portando le marche in tutto il mondo Quindi sicuramente sotto questo punto di vista L'artigianato è il cuore pulsante nella nostra regione Voglio aggiungere che la sostenibilità Deve essere un obiettivo da parte di tutti noi Perché ormai come abbiamo anticipato in platea In sala oggettivamente l'ambiente rappresenta un obiettivo da tutelare E da sempre di più custodire La competitività non può essere sacrificata e lasciata sulle spalle Degli artigiani, dei piccoli e meglio imprenditori Che da soli non hanno le forze a volte Per raggiungere la sostenibilità che oggi noi crediamo Le marche e l'Italia rappresentano sotto questo punto di vista delle eccellenze Perché dalle marche e dall'Italia sono partite tante innovazioni E credo che sugli investimenti dobbiamo dare una grande risalto Una grande opportunità anche alla ricerca e alla formazione Un'occasione per dar voce a chi si sta mettendo in gioco ogni giorno E che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone Sono quattro appuntamenti che avevamo messo in calendario Tra i mesi di marzo e aprile Siamo partiti l'8 marzo con il tema del welfare a Iesi Al Federico II Con oltre 200 persone che hanno partecipato E oggi secondo appuntamento abbiamo detto Facciamo parlare le imprese Facciamo sì che parlino proprio con le proprie parole Quelli che stanno appunto adottando percorsi di sostenibilità Il 30 marzo le tenute collesi di Urbino Parlando di comunità energetiche Sarà un discorso più tecnico Possibilmente anche di idrogeno green E poi proseguiremo il 15 aprile Nella nostra sede sarà un incontro B2B Tra imprese per uno scambio di esperienze Soprattutto anche per chi vuole prendere informazioni Da chi appunto la sostenibilità la sta praticando Per raccontare e per capire quello che si può fare Ospite d'eccezione Neri Marco Re L'attore in prima linea col progetto Risorgi Marche Per la sensibilizzazione e la cura del territorio locale A 40 anni dalla morte del fuciliere Filippo Montesi Comuni di Fano e San Costanzo Hanno organizzato per domani, mercoledì 22 marzo Una serie di iniziative che inizieranno alle 8.45 Con la deposizione di una corona al cimitero di San Costanzo Poi a Fano seguiranno l'alzabandiera al monumento ai caduti del mare E una santa messa nella chiesa di San Giuseppe al Porto Alle 17 invece al Teatro della Fortuna Si terranno la cerimonia commemorativa Che Fano TV trasmetterà in diretta E il concerto della banda della Marina Militare Sempre domani ricorre il terzo anniversario della morte di Italo Nannini Fondatore dell'Africa Chiama Quest'anno in occasione dell'iniziativa denominata Non voltarsi in memoria di Nannini Di fronte a un naufragio di Cutro L'associazione ha deciso di destinare i fondi raccolti ad emergency Per sostenere l'impegno della Life Support La nave per i soccorsi nelle acque del Mediterraneo Questa scelta, ha dichiarato la Presidente Anita Manti È dettata dalla volontà di voler ribadire La chiara posizione dell'Africa Chiama Salvare vita umane non è un reato Ma un dovere di ciascuno di noi Domani alle ore 18 Presso la parrocchia Gran Madre di Dio Verrà celebrata una santa messa In ricordo di Nannini Cambiamo argomento Alla Politeama di Fano Invece si torna a ridere Con la compagnia dialettale del GAF Pronta a salire sul palco con una nuova commedia Lucio, fermano gli ultimi preparativi Per questa nuova commedia del GAF Scritta e diretta da lei insieme a Fabrizio Signoretti Dopo tre anni di attività col freno a mano Riprendiamo a tutti gli effetti Il luogo più deputato per le commedie dialettali Il Politeama di Fano Andiamo con questa nuova commedia Come sempre scritta da me del cugino Che abbiamo intitolato Cum la giri la giri Manda sempre le donne Come si può evincere dal titolo della commedia Non facciamo altro che constatare Certificare Quello che è uno stato di fatto La supremazia delle donne Nei confronti degli uomini Chi ha una moglie che è sposato Chi è una compagna Si potrà rendere conto pienamente Di quello che dico Perché per quanto noi ce la raccontiamo Che siamo quelli Che abbiamo le redini della situazione Il bastone di comando ma poi allo stato dei fatti Chi ci impone le cose Chi dice fai questo Fai l'altro E ci ordina Le cose giornaliere Sono sempre le donne Eccolo Sempre a stravacosso Che il divano senza fa niente Morto Morto C'è da portaviano a bondezza Sarfento Cum la giri la giri Manda sempre le donne E nel dettaglio Qual è la storia di questa commedia Per quel poco che posso anticipare Diciamo La storia si svolgerà In due luoghi fisici Ben distinti La barberia Boris E la parrucchieria Vidal Poi l'evoluzione della storia porterà Anche ad altre ambientazioni Chiaramente Però avremo praticamente I frequentatori di questi due luoghi Quindi gli uomini da Boris E le donne da Vidal Li vedremo intenti A denunciare i difetti E le costrizioni Che sono imposte dall'altro sesso Però questa sarà soltanto L'inizio della commedia Che poi avrà un suo sviluppo In diciamo Argomenti tradizionali Quali tradimenti incrociati E situazioni Diciamo Di carattere economico Finanziario E la caratteristica È che Le direzioni saranno sempre Siamo deputate dalle donne E l'uomo sarà sempre dietro A dover rincorrere Mettere una pezza Attaccare Diciamo Una pezza Per poter risolvere La situazione E in qualche modo Ridurla ai minimi termini Quando andrete in scena E da quando è possibile Acquistare i biglietti? Noi andremo in scena Lunedì 27 Martedì 28 Mercoledì 29 La prevendita Inizierà da domani Mercoledì 22 Alle ore 18 Al Politeama Quindi Diciamo Chi si vuole divertire Chi vuole Passare due ore Di sano divertimento E garantiamo Che il divertimento Sarà veramente tanto Perché noi siamo I primi clienti Esigenti di noi stessi E noi ci siamo divertiti Tantissimo A fare le prove Quindi Non può mancare Al Politeama Perché il GAF Presenta Cum la giri La giri Manda sempre Le donne Invece al Masetti di Fano Giovedì 23 marzo Alle 21 e 15 Verrà proiettato Il film C'era una volta in Italia Giacarta sta arrivando Il documentario Che a Dancon Ha riscosso Un grande successo Con oltre 400 persone In sala Racconta Le tragiche conseguenze Di un piano Di rientro Che ha messo K.O. Gli ospedali Nel sud Italia Come si legge Nella Locandina Si tratta Di un'inchiesta Sulla sanità Di una storia epica Di ribellione E lotta Per i diritti Passiamo allo sport Con il programma Di fanutivo Condotto Da Andrea Maduzzi Che torna Tra poco Subito dopo Il nostro telegiornale Sentiamo Stasera sportissimo Alessandro Tomassini E Giacomo Brunetti Due giovani protagonisti Dell'Alma Juventus Fano Per commentare Il ritorno Al successo In trasferta Della squadra Granata Poi la 13 Cup Il torneo riservato A formazioni Under 13 Maschili Che la Virtus Volley Organizzerà La prossima Pasqua Con il contributo Di Avis Nostri ospiti Marco Mantile Dirigente Della Virtus Vigilar Fano E Giuseppe Franchini Presidente Della Avis Fanese Infine L'attività Della Panatron Club Fano E in particolare Iniziative rivolte Alle scuole Che saranno Illustrate Dall'attuale Presidente Francesco Savelli E dal Past President Fabrizio Tini E noi chiudiamo Qua il nostro telegiornale Vi ricordo Il numero di telefono Dedicato alle vostre Segnalazioni 338 49 68 250 E dunque Buona serata Con Sportissimo E arrivederci a domani Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada